Auditorium Caris, PAC, siamo all'Aquila, questa mattina giornalisti ed esperti a confronto su un tema delicato come quello della geopolitica, ovvero parlare di scenari internazionali e politica in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, soprattutto per le dinamiche che si stanno sviluppando in Egitto e in Medio Oriente, rapportandole per una formazione continua e costante come quella che serve per i giornalisti abruzzesi che questa mattina si sono incontrati qui nel capologo. L'ordine dei giornalisti di Abruzzo ci ha tenuto ad inserire nei programmi di aggiornamento professionale i momenti anche di questo tipo, che possono sembrare distanti dall'esperienza quotidiana di ognuno di noi che facciamo giornalismo di provincia, perché in questo mondo globalizzato il mondo entra dentro le nostre case, entra con notizie drammatiche come quelle che sono arrivate dall'Egitto o con l'immigrazione, dove anche semplicemente raccontare delle storie o delle traiettorie esistenziali ci riporta a un universo che dobbiamo riuscire a decifrare. Quindi oggi, grazie a una proprietà di esperti che ruotano intorno al mondo universitario e al sito geopolitica.info, abbiamo cercato di costruire insieme una cassetta degli attrezzi che vanno da un lessico specifico a degli strumenti che possiamo di volta in volta utilizzare per decifrare, rendere più semplice per noi, ma soprattutto per chi di volta in volta ci leggerà o ci ascolterà o ci guarderà in televisione quello che sta accadendo.